Questo tratto di strada doveva rimanere chiuso fino a mezzogiorno e in realtà i lavori sono già terminati, quindi era aperto con anticipo. Quindi la ditta ha lavorato bene, ne siamo sicuri, ha aperto anche prima del previsto la strada che questa mattina dalle 8 è stata chiusa per permettere di sistemare l'asfalto sopra il ponte, in quanto c'erano degli accumuli di acqua che non andavano bene, quindi sono stati eliminati, è stato ottimizzato un lavoro già ben fatto a nostro giudizio e quindi sì, effettivamente anche prima del tempo abbiamo potuto riepire questo ponte, che è un ponte importante perché collega Caregnano e la parte di Centinarola a lungo via della Selva all'abitato di Fenile e quindi sicuramente il lavoro è venuto anche abbastanza bene e quindi siamo molto contenti. Abbiamo notato che ci sono anche altre squadre al lavoro sempre nel quartiere di Fenile. Sì, stamattina anche in previsione di questa Pasqua abbiamo messo in attività diverse ditte, dal taglio dell'erba che oggi stiamo facendo lungo gli interquartieri della zona mare, fino al rifacimento con i nostri operai della segnalettica orizzontale, in particolare sempre qui al Fenile abbiamo ripassato quegli attraversamenti pedonali che erano meno evidenti rispetto agli altri, alcuni stop in alcune vie che si affacciano sulla strada di Fenile e quindi sistemiamo e ci prepariamo anche aumentando la sicurezza evidenziando la segnalettica orizzontale.